buongiorno a tutti oggi vi faccio vedere un allenamento composto da quattro esercizi molto semplici quindi il primo si chiama sidelo jump alzate laterali frontali in alto burpees e rowing con il kettlebell quindi faremo 10 10 5 10 per lato sempre vedete si vede la vi faccio 4 impure che voi fare domani, vi faccio solo il kettlebell e il vostro corpo e tutto Grazie a tutti. 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 L'ultimo giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.